Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti di opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Finisce questa sera il campionato di Serie B, finale di ritorno tra Pisa e Monza, che ha deciso l'ultima promossa in Serie A. Raggiunge il Lecce e la Cremonese, che hanno raggiunto con la fase regolare del posto in Serie A, il Monza, che ha vinto questa sera per 4-3 ai tempi supplementari, al termine di un incontro che è stato sicuramente molto bello, molto godibile da vedere, un incontro che ha testimoniato quanto la stagione di Serie B quest'anno sia stata veramente piacevole, giocata con un bel calcio, credo superiore anche a quello che sia stato il livello del campionato di Serie A. Il Monza quindi conquista la promozione, quella che avrebbe dovuto raggiungere già nel girone regolare, ma per dei meriti propri non era riuscito a raggiungere, nei play-off invece Stroop ha riuscito a trovare l'11 ideale, ha trovato la formazione corretta per riuscire ad andare a completare il lavoro che gli era stato richiesto all'inizio dell'anno, rimpianti per il Pisa, sicuramente rimpianti, il Pisa sapete è una squadra che ho seguito lungo tutta la durata di questo campionato, ho creduto molto nel Pisa, resto convinto che sia una squadra splendida, che senza degli errori individuali che sono avvenuti stasera avrebbe anche potuto conquistare la meritata promozione in Serie A. Il Monza merita comunque la Serie A, è un'ottima squadra, è una rosa infinita, come detto è una squadra che avrebbe dovuto raggiungere il risultato già molto prima, e stasera è stata molto brava perché il Pisa è partito a 200 all'ora, è nato 2-0 subito al nono minuto, la partita sembrava esattamente incanalata verso quelli che erano i binari della squadra nera-azzurra, un ambiente straordinario allo stadio, un Pisa partito a 200 all'ora, Monza faceva fatica in difesa, faceva fatica a centrocampo, non c'era partita da nessuna zona del campo. Però il Monza è stato bravo a resistere a questa prima ondata della formazione di D'Angelo, ha trovato il gol del 2-1 con un'azione ruminata in mischia al ventesimo minuto, nella quale c'è stato anche un contatto di mano di Carlos Augusto ritenuto involontario o comunque non sanzionabile dall'arbitro Mariani, la palla poi è arrivata a Macin che ha messo la palla nell'angolino. 2-1 alla fine del primo tempo, un bel primo tempo combattuto, grintoso, con tanti interventi, con tante prodezze anche tecniche e tantissimo agonismo, secondo tempo invece il ritmo si è molto calato, il Pisa ha avuto la chance, io credo che il Pisa oggi, come dicevo prima, non ce l'abbia fatto per errori proprio individuali. Contesto ad Angelo una sola scelta, aver tolto Torregrossa per inserire Luca, Luca anche stasera è stato disastroso l'involuzione di questo ragazzo, o abbiamo pensato di avere veramente trovato un fenomeno nei primi mesi, o si tratta di un giocatore totalmente sopravvalutato, probabilmente la verità sta nel mezzo, sicuramente è un ragazzo che si deve ricaricare, ha bisogno dell'estate, di fermarsi un attimo per cercare di farci capire che tipo di calciatore è. Comunque, quello che contesto ad Angelo è questo, il cambio per quanto Torregrossa potesse non essere in forma, ma sicuramente era meglio che avere Luca in queste condizioni, piuttosto meglio mettere prima Masucci, Luca tenerselo proprio come ultimissima chance. Per il resto errori individuali, come detto, il primo errore individuale gravissimo di Puskas che ha avuto la palla per chiudere la partita nel secondo tempo, ma ha colpito la traversa su una conclusione nella quale forse poteva passare la palla a Torregrossa, anche che era in mezzo all'area piazzato meglio, e poi l'errore individuale l'ha fatto Leverb che nel tentativo di uscire palla al piede dall'area di rigore, con una follia, ha perso il pallone, e il monte è stato velocissimo con una combinazione di Danny Mota con Kit Kier a trovare il gol del 2 pari. Stavamo al minuto 79, il Pisa si è buttato in avanti, è entrato Ben Ali, è entrato Cohen, è entrato anche il grandissimo Masucci, ed è arrivato al novantesimo con una bomba da fuori aria di Mastino il gol del 3-2. Supplementare, il Pisa sembrava arrivarci anche dall'alto di una forza agonistica migliore, e psicologica migliore, e invece altri due errori individuali hanno condannato la squadra di D'Angelo, il primo su un calcio di una palla ferma, sulla quale Ben Ali si è completamente perso Marrone, che già nel primo tempo aveva avuto una buonissima occasione ben respinta da Nicolas, che ha trovato il gol del 3 pari, e poi sfortunatamente purtroppo il capitano Birindelli ha commesso un altro errore, e Kit Kier è stato precisissimo a mettere il pallone in rete, con un Nicola Soggi un po' così meno convincente di altre volte, che si è fatto passare il pallone in mezzo alle gambe, 3-4, nel finale il Pisa ha cercato ingenuamente di avere un calcio di rigore, in un paio di occasioni Ben Ali e Lucca penso non ci fosse niente, nell'occasione del fallo di mano di Caldirola il rigore era evidentissimo, il Monza quest'anno ha avuto rigori per molto meno, ma l'arbitro Mariani non ha ritenuto di concedere un penalty, che mancavano 5 minuti alla fine avrebbe dato un gran finale. Monza comunque merita da un punto di vista tecnico quello che ha ottenuto, ha giocato una partita molto concreta, mi è piaciuto della squadra di Stroppa soprattutto il fatto di aver saputo resistere a quella che era la prima ondata pisana, e avendo trovato il gol poi ha giocato una partita pari da questo punto di vista, per cui sicuramente è una squadra forte, è una squadra da disponibilità illimitata, Stroppa ha fatto sicuramente un ottimo lavoro facendo delle scelte chiare e mettendo in campo un undici credibile, quindi credo che alla fine la promozione del Monza ci stia. Per il Pisa davvero resta il rimpianto di una stagione giocata veramente alla grande, il Pisa ha gettato la promozione diretta con due o tre trasferte sciagurate, la partitaccia sul campo dell'Ascoli, quella sul campo della Regina, la brutta partita sul campo del Benevento, è lì che ha perso la promozione diretta, poi i play-off sono un'avventura troppo pericolosa e rimandare tutto soltanto a questo atto finale è troppo pericoloso. Spero che il Pisa riparta comunque da questo nucleo che sicuramente ha dato tanto e potrà dare tanto anche nelle prossime stagioni. In un click velocissimo le pagelle, per il Pisa 5,5 a Nicola, 6 a Birindelli, purtroppo l'errore nel finale è grave, 5 alle Verb, gravissimo l'errore sul 2 pari, 6,5 a Hermansson, 7 all'ottimo Beruato, 7 a Marin, 6,5 a Noji, 5,5 a Siega, 7 a Sibilli, straordinario il primo tempo, poi un po' calato, sostituito, ma credo ci sfostesse la sua sostituzione, 7 a Torregrossa, 5 a Puskas, si è mangiato un gol all'andata, si è mangiato un gol al ritorno, purtroppo ha parecchie responsabilità in questa situazione. 4 a Lucca, 7 a Mastinu, 6 a Benali, che ha fatto bene l'attacco, ma grave la mancanza della copertura mancata su Marrone, positivo abbastanza a Cohen, sempre positivo Masucci, che è un idolo assoluto, De Vitis oggi non mi è piaciuto invece, che è un giocatore che solitamente mi piace, 5,5 a Di Gregorio, 6 a Caldirola, troppi falli, 7 a Marrone, 6 a Pirola, 7 a Molina, oggi molto bene, 6 a Mazzitelli, 6,5 a Barberis, 7 all'ottimo Macin, 6,5 a Carlos Augusto, 6 a Ciurria, 6,5 a Dani Mota, 8 a Gittkier, 2 palloni, 2 gol, parliamo di Benzema, c'è Benzema anche nel Monza probabilmente, D'Alessandro positivo, Colpani positivo, perché è un giocatore del suo talento, che è stato indietro a ribattere, a tenere la palla sul calcio d'angolo, molto bravo, Bettella, Mancuso e Paletta sono entrati, ma non sono valutabili, arbitrato male Mariani, voto 4, non mi è piaciuto assolutamente il suo arbitraggio, al di là di una serenità che ha acquisito, grazie al fatto di essere diventato un arbitro internazionale, sulla sua partita pesano errori, che è un arbitro di questo livello, Caldirolla ha fatto un numero assurdo di falli, non è stato ammonito, Mazzitelli ha fatto un numero assurdo di falli, non credo sia stato ammonito, sul gol del Monza c'è un tocco di mano, che in questo caso non valeva, il giallo a Birindelli, forse poteva anche essere un rosso, perché la palla poi era libera, ma aveva già fatto tanti errori precedenti, non credo avrebbe mai espulso Birindelli, nel finale credo che ci stesse un rigore per il Pisa, ma non ha avuto il coraggio di darlo, a mio avviso un arbitraggio gravemente insufficiente, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, complimenti al Monza promosso in Serie A, grazie per avermi seguito in questo lungo campionato di Serie B, nelle prossime settimane faremo qualche video di riepilogo, di questa stagione, con un po' il nostro top 11, migliori, peggiori, qualche analisi su questo campionato, che è stato veramente molto divertente, grazie a tutti, iscrivetevi al canale, grazie per il sostegno, un bacio e ciao da Lox.